Competitiva in campo e fuori Modena Volley. La stagione è iniziata con un successo netto e convincente nella prima di campionato, ma le potenzialità del sestetto di Andrea Gianni nascono anche da un team di sponsor ampio e significativo. Spicca tra gli altri il marchio di CPL Concordia, che sulle maglie e nei vertici dirigenziali del Modena Calcio ebbe una storia travagliata anticamera del fallimento, mentre nel volley vuole marcare una distanza netta col passato. Cito pedisseguamente parte della nostra mission, competere con lealtà. Troviamo che l'assonanza che ci sia tra le nostre realtà rappresenti esattamente la nostra mission. Condividiamo con il volley modi dei valori importanti, la territorialità, il credere sui giovani, la prospettiva di un percorso che pone delle basi solide del presente per vedere un futuro ancora più forte. Sul campo la Leo Schus nell'esordio contro Padova ha convinto per molteplicità di soluzioni d'attacco e sorpreso almeno in parte per l'assetto in ricezione, con ampia responsabilità delegata anche agli opposti, Zaitsev in particolare. All'esordio contro Padova, fortunatamente per la qualità delle battute di Padova, che poi logicamente ho ringraziato i ragazzi di Padova per essere stati clementi con me, la ricezione è andata abbastanza bene, è una cosa che mi stimola a fare meglio ed è una cosa che anche dal punto di vista mentale mi aiuta a stare di più in partita con più attenzione e logicamente spero che mi faccia stare in campo meglio. E se Padova ha graffiato poco, la sfida di sabato contro Piacenza sarà crash test decisamente più probante per la fase difensiva giallo-blu. Loro hanno un bellissimo organico, noi secondo me dobbiamo stare molto più attenti alla qualità di gioco che esprimiamo noi ed è su quello che stiamo lavorando a partire da ieri in questa settimana e ci focalizzeremo soprattutto lì per prima cosa a fare bene le cose nostre e poi vedremo se basterà sabato, deve bastare, la faremo bastare in qualche modo la faremo bastare.